Intorno al lago, ok Fammi vedere un po' La Taglio la strada di qua E poi mi da male Spiegherò tutto Io sono lo chef Zampe Peluse Di Zamporto Ovest Ok Qualcosa è andato storto Che intendi? Ah Ti aiuteremo Merci Venite a Zamporto Ovest quando potete Ok Grazie Perfetto No Zamporto Ovest Vabbè ma io volevo andare a fare La nostra missione più importante Il famoso drago di là Andiamo Vediamo se possiamo farlo Almeno non mi ha detto che sono pazzo di livello Sotto vince No No Mi ha detto che mi ha parecato No 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 finito, aia, ok, perfetto, così andiamo avanti anche nella storia, siamo i numeri 1, mi piace questa spada, livello 19, chi è quella? Ah, la sorella, arrivo, arrivo, arrivo sorellina, no, no, ancora lui, che vuoi, ti è piaciuta la mia allusione? No, restano ancora 2 dei miei grani, il prossimo si trova sull'acqua, ho appena lasciato un localizzatore magico su Dracot, ci porterà direttamente dietro la tua sorella, ok, allora aspetta però che qua c'è un pilastro, ok, il sangue di Drago fu l'unico motivo per cui i draghi vennero sconfitti, la guerra contro i draghi giunse a termine poco dopo, ah, praticamente raccontano tutta la storia, si può dire così, del passato dei draghi in questi guerrieri, no? non è strano che la città sia completamente vuota, ma che ci sia comunque una bacheca missioni, tanto qua, fusa, fusafore, mia ma, no, mia sorella, dovevo vista la madre, è così malata, ma qualcuno può aiutarci, andiamo, qui, mia sorella gemella è così malata, non so cosa fare, ma sono tutti uguali questi gatti, ok, sono trovati dell'erba gattaia, e cresce un po' vicino alle montagne a est da qui, ok, a est di là, dov'è la gattaia? un'imboscata, mamma mia, mi ho sbagliato quanto con loro, è il loro pane quotidiano, ok, fatto, mi hanno accalpestata tutta, torniamo indietro, forse possiamo vedere un altro piano, ok, tanto per questa moneta, se non ti dispiace, comunque cercherò di tagliarvi questi avanti e indietro, perché sono un po' lunghi, immagino che potrebbero darti un po' fastidio, anche perché c'è la freccia che gli indica, questo è l'ultimo avvertimento, non mi volete, ma cos'è infatti, la porta si apre, mostrano una casa abbandonata da tempo, adesso sono i contadini, non avevo mai potuto immaginare tutto questo, vero, se abbiamo tempo dobbiamo dare un'occhiata alla città di fronte, ok, che è questa? Tiri fuori uno strano amuleto dalla bacheca, contadini, cos'è questo strano amuleto? Ci stanno ignorando, sono sotto l'effetto di un incantesimo, ehi, niente, fai vedere quell'amuleto, Spirri, vola intorno all'amuleto con l'aria curiosa, riesco a vedere una traccia magica, dovrai per conoscere fino a chi ha lanciato un incantesimo, c'è un segno sul terreno, sono lì a quello dell'amuleto, sento dei mostri, oddio, ok, sono quasi a livello 20 ragazzi, mamma mia, incredibile, facendo le missioni secondarie però è un po' più veloce, fai vedere di nuovo quel segno, da dove venite? l'amuleto, devo avere l'amuleto, no, dammi l'amuleto, quindi, che devo fare? questa getta? vediamo questo nuovo simbolo che ho visto, come siete apparsi qui? che non riesco a ricordare nient'altro? ok, ok, lo tornerò di nuovo con la città la prossima volta, ok, e devo dire che comunque, tutte le persone sono un po' nei guai, la fuga, c'è una nota qui, che qualcuno mi aiuti, sono nella prima casa, parlate attraverso la porta, questo, siamo presto, non voglio perdermi un'altra volta, chiamatemi Miaugan, cosa intendi con perderti? io mi sono svegliato, non so come sono arrivato qui, cercate di andarmene, ok, non preoccuparti, ti faremo uscire, andiamo un po' più fuori, per avere l'idea più chiara, qua, non avverso niente di strano, questa è la direzione giusta, andiamo, ancora un po' più su, qua, oh, troppo a sinistra, mi dici tu, però, secondo me era meglio, farci arrivare il giocatore, che è molto, e ti aiuta fin troppo, ok, sì sì, quello lo sappiamo, ah, poi queste caverne qua, le ho fatte per conto mio, per arrivare a livello, dove eravamo all'inizio, quindi un po', mi piace così tanto, quell'arma lì, che sbaglio sul tuo potere, ok, aspetto, un altro amuleto, l'amuleto scompare, l'amuleto è scomparsa, ok, una città piena di amuleti, devo dire, a partire, di amuleto, cattiglie, Mi c'è idea! Magari potresti ricontrare la macchina degli abiti Ho trovato questo nelle carni, potete detenerlo? Grazie Mi c'è addio Ma dove siamo finiti? ...vecchi maestri crearono questo mondo ma sono solo favole, se troviamo dei mostri dobbiamo eliminarli speriamo che tua sorella sia lì dentro livello 15? Ah, forse ce la possiamo fare pensavo fosse più... difficile ok da vedere cos'è? bastone arcano non credo che lo metterò vabbè eh certo tutto usa questo ahia 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 che fortuna e questi sono facili basta fare così praticamente che col colpo col colpo normale ci mette un po' vedete facendo così facendo così invece gli toglie un po' siamo quasi a 21 eh un po' aiuto la città la città è umana ovviamente è un altro e anche l'altro perfetto questo qui questo qui ah già questo è un po' tosco da parte ok non lo ho preso ok lo sole non è qui usciamo di qui e vediamo se riusciamo a trovare un altro indizio livello 21 livello 21 siiii mi sta chiuso c'è altro? abbiamo perso qualcos'altro questo livello 8 però senti anche tu? direi sì tutte le zampe dove siamo?